Contagi che in territorio ebleo salgono e scendono lievemente con una forbice di 10 casi circa al giorno. Oggi 763 contro i 751 di ieri. Una curva dei contagi quindi che sale lievemente dopo gli ultimi tamponi effettuati. Di questi, 720 sono in isolamento domiciliare, 16 si trovano nell'RSA di Ragusa e 27 sono ricoverati nei reparti Covid. Sale purtroppo a 179 il numero dei decessi nel Ragusano. Si registra infatti oggi la morte di un paziente positivo. Si tratta di un uomo di Pozzallo di 65 anni che era ricoverato al Giovanni Paolo II. I positivi comune per comune sono 21 ad Acate, 17 a Cheramonte, 74 a Comiso, 5 a Geratana, 12 a Ispica, 129 a Modica, 2 a Monterosso, 29 a Pozzallo, 176 a Ragusa, 20 a Santa Croce, 31 a Scicli, 187 a Vittoria, 17 da fuori provincia. Per quanto riguarda il numero dei tamponi, 82 mila sono i molecolari, 21 mila i sierologici e 112 mila i testi rapidi per un totale di 216 mila. Sono 27 i ricoverati tra gli ospedali di Ragusa e Vittoria, 18 al Giovanni Paolo II, 13 in malattie infettive e 5 in terapia intensiva, 9 in area Covid del Guzzardi di Vittoria. Quindi in lieve diminuzione le persone ricoverate nei vari ospedali blei, ieri 30 e oggi invece 27. Continua anche spedita la campagna vaccinazioni. Su 7 mila e venti dosi a disposizione ad oggi sono 5 mila 377 i vaccini in totale già effettuati al personale sanitario e anziani ospiti nelle varie case di riposo i blei. Continuano anche i testi rapidi in diversi comuni della provincia. Effettuati ieri 2.147 tamponi e riscontrati in totale 11 positivi, così distribuiti 5 a Vittoria, 3 a Pozzallo ed 1 a Comiso, 0 positivi a Ragusa e Modica. A livello regionale invece preoccupa la situazione a Gela dove il governatore Musumeci ha indetto la zona rossa già a partire da domani alle 14. Proprio a Gela infatti si registrano ad oggi 800 persone contagiate da Covid, numeri preoccupanti a cui si aggiunge anche quello dei 31 decessi in città.